Ciao, Leonardo, il pianista di Spacepianist. Il prossimo sarà il Plano Cauda. È un EP per piano solo e minima elettronica. L'atmosfera è abbastanza oscura e meditativa, quindi non è per tutti questo tipo di musica. E non penso che tutti possono avere la pazienza con lui o con lui per davvero accettare ciò che è fluendo in quella musica. Perché sto dicendo questo? Perché in social media, nella maggior parte della musica che è pubblicata, e noi sempre proviamo di dare la nostra migliore immagine per mostrare la felicità, per mostrare che tutto è super ok, ma questa non è la verità della vita quotidiana. Ora, sembra abbastanza ovvio quello che sto dicendo, anche se è praticamente quello che sta succedendo. Abbiamo i nostri occhi scuri, abbiamo la nostra tristeza, la nostra melancolia e, inoltre i casi reali, non vedo questo troppo fuori, nei spazi pubblici dei social media. È anche vero che ci sono molti artisti che stanno channellando questo tipo di sentimenti. E anche nel mio caso, questa volta, non ho cercato di scoprire un più melancolico, un più meditativo aspetto. Quindi ho registrato questa musica, ho elaborato la musica con l'elettronico l'elettronico che ascoltaranno, creando questa atmosfera di musica, e spero che, con alcuni di voi, queste composizioni entreranno in risonanza. In questo modo, potete trovare la mia musica su Spotify e tutte le platforme musicale digitali e anche un video fatto alla House of Pianos, in Dubai, sull'elettronico di Spirio limited edition che sarà fuori e potete anche piacere questo ottimo lavoro di arte. Ci vediamo! Ciao!